Ben trovati cari amici e benvenuti una nuova puntata delle pillole dell'artista. Oggi ci troviamo a Milano, sono stato chiamato per dare un'immagine e creare un nuovo restyling della zona Libi. La mia proposta era fare una corteccia pietrificata su un vano scale. Andiamo a vedere come. Andiamo a vedere ora le pareti che andremo a decorare. Ci troviamo nella zona Living del soggiorno. Questo soggiorno è un po' particolare perché abbiamo tutta la zona pranzo e soggiorno più abbiamo l'angolo scala che va su nel reparto notte. La mia idea era di valorizzare questa parete della scala per dare un tocco originale e valorizzare tutto quello che è l'invito per andare al reparto notte. Volevo proporgli una decorazione materica. L'effetto è un effetto innovativo e una corteccia pietrificata. Vi elenco le fasi della decorazione che vado a proporgli. La prima fase è la stesura del materiale. La seconda fase è la lavorazione con l'effetto in modo tale da creare la texture. La terza fase è la compattatura del materiale. La quarta fase andiamo a dare il suo fondo madreperlato. Che cosa è il suo fondo madreperlato? Mi valorizza quello che è la mia decorazione e allo stesso tempo mi blocca l'assorbimento dei colori. Andremo a creare il colore scelto dalla cartella e andremo con la quinta fase a vetrificare in modo tale da valorizzare tutta la nostra decorazione, valorizzeremo tutta la texture e sarà valorizzata con lo stesso tempo anche la parete della scala. Per cui non mi resta altro che iniziare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a vedere la seconda fase decorativa, ossia la creazione della trama. Per far questo mi avvalerò di un tappeto erborso in modo tale da creare e delineare tutta la mia fase decorativa. Vi faccio vedere come. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a vedere ora la terza fase lavorativa che è composta dalla definizione del mio materiale. Per fare questo ho bisogno del mio fratazzo, mi aiuterò con dell'acqua e andrò piano piano ad accarezzare la texture. In modo tale che andremo a compattare delle zone, andremo ad appiattire altre zone e andremo a lasciare la texture abbastanza delineata. Molto bella e anche ci valorizza la nostra parete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo concludendo la fase della compattatura della texture. Passeremo successivamente alla fase della coloritura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.